ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi andremo a fare il video preparati a cosa sta arrivando nella tua vita abbiamo come sempre due varianti variante 1 e variante 2 scegliete la variante che più sentite vostra in base anche alla pietro al numero e magari ascoltate anche l'altra perché essendo un interattivo dovete prendere semplicemente quello che risuona con la vostra con ciò che risuona nella vostra situazione o nel vostro settore di appartenenza e lasciare andare il resto quello che non risuona con voi sicuramente risuonerà per qualcun altro io intanto mi preparo quella che è la come dire la disposizione dei mazzi di carte vi ricordo che sotto il video trovate anche sovrimpressione i miei contatti dove potete scrivermi il vostro nome la vostra data di nascita per il secondo canale o lasciarmi o chiedermi informazioni per avere un consulto con me dovrei dovrei ricominciare a fare le live fatemi sapere sotto tramite commento se vi può interessare la ripresa delle live domini e domenicali perché è un qualcosa che in questo momento ho sospeso però che vorrei prima possibile riprendere ecco vi ricordo anche che sotto ogni video trovate il link al sito dove potete visionare quelle che sono i mazzi di carte che io ho creato andremo a prendere vediamo cosa sta arrivando nella vostra vita sto cercando di prendere più carte possibile andiamo a vedere pure se c'è magari un personaggio che sta arrivando non soltanto una una situazione ma anche un personaggio e quali sono le sue caratteristiche vediamo un po ne prendiamo tre anche di qua e vediamo un po che cos'altro andiamo a prendere andiamo a prendere anche un mazzo di queste cioè un paio una carta di queste qua in modo da riuscire a completare i mazzetti e vediamo 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 cosa mi viene in mente ancora di prendere vediamo un po questo qua questo sì mi piace vediamo cosa hanno da dirvi gli angeli su quello che sta arrivando nella vostra vita ok per adesso diciamo che così vanno bene allora abbiamo mazzo numero uno mazzo numero due o variante chiamatela come più credete opportuno iniziamo subito con gli amici della variante numero uno spostiamo la due mettiamo la variante qui in modo che voi la possiate vedere e vediamo che cosa ci vanno a dire devi credere di poter essere ricco ci dice questa carta concentra la tua attenzione sulle caratteristiche i punti di forza e i pregi che ti portano a credere di poter essere ricco e di meritartelo parliamo non soltanto di ricchezza a livello economico anche se qua abbiamo l'esse dollaro però parliamo anche di ricchezza emotiva vediamo cosa abbiamo il 5 di gabriele sei davanti a un problema che puoi risolvere non farti coinvolgere dai drammi degli altri si paziente con te stesso e con chi ti circonda questo è molto interessante diciamo che il 5 di gabriele ci porta a non essere fermi davanti a un ostacolo ma cercare di superarlo al di là di quello che ci possono dire gli altri variante 1 2 di raffaele due cuori che si dedicano alla creazione di qualcosa di meraviglioso spiriti affini non rinunciare alle persone che ami qua secondo me c'è qualcosa relativo anche alla coppia e appunto parlavo di ricchezza non soltanto materiale ma anche di ricchezza di sentimenti ricchezza emotiva ricchezza sentimentale perché qua è come se ci sono due parti di cui una si sente frenata anche se si sente molto legata perciò quello che sta arrivando nella vostra vita è come una spinta a protarsi verso un'altra persona e infatti qua abbiamo vedete qui è come se amici della prima variante qua alcuni di voi hanno chiuso il cuore completamente qui vedo una situazione di chiusura a livello sentimentale ma non di chiusura perché si conclude una storia ma qua io vi vedo proprio chiusi chiusi in in voi stessi chiusi a non voler e conoscere più nessuno avete chiuso il cuore sicuramente per un qualcosa che vi è successo e però forse perché vi siete sentiti traditi vi siete sentiti derubati vi siete sentiti come ad esempio frastornati da una situazione che magari vi è capitata e avete chiuso completamente il cuore ma qua quello che sta arrivando secondo me secondo me vi porterà a doverlo riaprire infatti qua abbiamo qualcuno di determinato qualcuno di audace e di affidabile perciò amici della variante numero uno con queste carte con un personaggio che si è che arriva nella vostra vita con queste caratteristiche determinato affidabile e audace come potete pensare di tenere il cuore chiuso qui mi parla appunto di una situazione perché voi siete davanti appunto a un problema che dovete risolvere dovete risolvere perché qui c'è davanti a voi una possibilità importante qua vi dice la carta che non dovete farvi coinvolgere dai drammi né degli altri nei vostri confronti perché qua sicuramente c'è qualcuno che ha creato un dramma nella vostra vita e vi ha fatto diciamo chiudere il vostro cuore ma qua sta arrivando qualcuno di determinato di affidabile e di audace qua c'è qualcuno che non si darà per vinto al primo no non si darà per vinto al primo ostacolo qua c'è qualcuno che la montagna proprio la vuole scalare due di pensiero gli angeli hanno visto che ti sei fermato hai molte possibilità da esaminare e non riesci a scegliere chiede agli angeli di inviarti un segno per capire quale direzione prendere o ascolta la tua voce interiore nel profondo sai cosa fare qui secondo me voi nel momento in cui andrete a conoscere oppure a vedere questa persona c'è qualche qualche vocina che bussa sul vostro cuoricino ma voi non volete aprire non volete neanche guardare dall'occhiolino ma qua la carta vi dice appunto che ci sono molte possibilità da esaminare non tutti facciamo parte dello stesso fascio e non dobbiamo catalogare tutte le persone allo stesso modo ma come dico sempre dare la possibilità alla persona di farsi conoscere e poi abbiamo la carta dell'arcangelo michele ricordati chi sei sei un potente amorevole e creativo figlio di dio sei molto amato perciò questa a quello che vi dicono le carte degli angeli è appunto una persona che vi viene mandata dal destino è un qualcuno che è destinato a voi appunto per farvi ricredere per farvi riconoscere di essere ricco ma ricco non soltanto a livello monetario ripeto ma ricco di sentimenti perché qua c'è qualcuno che si affaccia nella nella vostra vita e che bussa prepotentemente alla vostra al vostro cuoricino quando ci non ci scordiamo la che è determinato e audace e perciò una persona determinata e audace non è che si mette e fa un passo indietro al primo no perciò mettetevi l'animo in pace perché qua c'è qualcuno che vi vuol far dimenticare tutto quello che avete vissuto variante numero uno mi raccomando fatemi sapere nei commenti se arriverà o se già è arrivato se riconoscete in queste mie parole qualcuno che già è entrato nella vostra vita e io nel frattempo vado a vedere cosa accade nella vita degli amici della variante numero due eccoci qua con gli amici della variante numero due vediamo che cosa abbiamo fatti pagare per i risultati non per il tempo regola numero uno per la ricchezza nessun limite alle tue entrate chi è ricco sceglie di essere pagato in base ai risultati chi è povero sceglie di essere pagato in base al tempo che è limitato chi è ricco crede nel proprio valore e nella capacità di offrirlo agli altri chi è povero vive nella paura e ha bisogno di garanzie molto importante questa regola fatevi pagare per quello che siede non per quello che fate re di raffaele caldo generoso rispettabile colto si è sicuro fidarsi hai la capacità di realizzare più cose contemporaneamente segui le tue passioni creative qui abbiamo un bel re che arriva nella vostra vita sei di ariel i tuoi bisogni materiali vengono soddisfatti in modi magici e inaspettati atti di bontà dai e ricevi con cuore riconoscente qui c'è qualcuno che vi vuole donare un po magari delle sue attenzioni o magari è qualcuno che diciamo si mette in mezzo per darvi qualcosa che meritate perché qua diciamo che questa è la carta del merito non la carta del tempo che voi diciamo adesso non mi viene la parola non è la carta del tempo che dedicate a una situazione a una persona ma è la qualità del tempo che voi dedicate a questa persona e perciò se voi avete dedicato del tempo avete dedicato della fatica o a un personaggio tipo questo re di raffaele oppure a una situazione che riguarda questo re di raffaele questo è il momento di raccogliere i frutti e qua abbiamo il pozzo dei desideri abbiamo la fiducia e abbiamo la gelosia qui queste due carte sono un pochettino contrastanti però vi spiego subito che potrebbe essere che qua c'è una fiducia ricompensata una fiducia ricompensata che potrebbe anche scatenare delle gelosie c'è un come un desiderio che si realizza come se riuscite a prendere finalmente ciò che desiderate questo perché perché voi siete vi siete sempre dimostrati per quello che siete una persona leale una persona amorevole una persona fiduciosa anche nelle vostre possibilità questo ha creato non poche gelosie intorno a voi e anche il fatto che questo re di raffaele si ponga nei vostri confronti in modo diverso da come ci si aspetta potrebbe suscitare anche delle gelosie enigmatico originale e antipatico allora quello che vi posso dire è che questo personaggio potrebbe in un primo momento farsi vedere in una modalità antipatica però un'antipatia originale che comincia a stuzzicare la vostra curiosità perché mi esce la carta dell'enigmatico l'enigmatico è appunto quello che non si fa scoprire fa le cose in modo misterioso però qualunque sia la persona che si manifesta a voi in modo antipatico ma originale è appunto quel tipo di persona quel tipo di re che lo fa per suscitare la vostra curiosità per darvi un tocco di curiosità guarda dentro di te sei una persona molto intuitiva e se guardi in te stesso scoprirai di possedere una profonda saggezza che attende solo di essere svelata concediti un momento di quiete per riflettere meditando o pregando su quel che su quel su quel che il tuo cuore desidera il tempo dell'azione verrà più avanti ora si paziente con te stesso perciò dovete aspettare ed esaminare vi dice la carta chiaro conoscenza arcangelo uriel presta attenzione ai pensieri e alle idee che ti vengono in mente perché sono la risposta alle due preghiere perciò qui ragazze mie della seconda variante qua si presenta un personaggio che sembra in un modo ma perché vuole apparire in quel modo vuole apparire in quel modo per suscitare la vostra curiosità perciò quello che la carta vi dice è di fare attenzione a quello che è il vostro intuito se lui si mostra in un modo e voi intuite che è tutta un'altra situazione se voi intuite che sotto c'è qualcos'altro andate a scavare andate a vedere che cosa ci può essere di diverso perché questa mi sa che la persona la situazione adatta a voi bene seconda variante io con questo concludo questa questa stesa questo video vi ringrazio per tutte le iscrizioni per i commenti mi raccomando iscrivetevi al mio secondo canale date un'occhiata e mi raccomando lasciate il mio nome data di nascita qualora voleste sapere curiosità e caratteristiche sulla vostra persona questo servizio è gratuito perché io faccio il video sul secondo canale per quanto riguarda un consulto privato con me per avere informazioni lo potete fare tramite i miei contatti che vedete o sotto il video o in sovraimpressione io con questo vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video